ciao ben ritrovata o benvenuta sul mio canale oggi ti propongo un make up sweet toni caldi del marrone spero ti piaccia e ti tenga compagnia direi di iniziare subitissimo con il primo prodotto che vado a stendere è il primer viso mattificante di smashbox oil and shine control davvero ottimo e te lo straconsiglio passo subito dopo al correttore questo è di charlotte ilburi il magic vanish in colorazione 2 medium che stendo così con le dita trovo che sia il metodo migliore guarda un po come ha corretto la mia occhiaia e quindi vado anche a fare lo stesso nell'altro occhio passo poi al fondotinta utilizzo questo di dolce gabbana il velvet skin perfect matt un fondotinta mattificante spf 20 io ce l'ho in colorazione 110 caramel ottimo fondotinta effetto opaco ma non spento quindi luminoso ottimo e te lo straconsiglio se hai una pelle misto grassa come la mia passo al correttore anche lui è di dolce gabbana in colorazione neutral quindi numero 3 anche questo lo stendo con le dita trovo che sia il metodo migliore fisso tutto con la cipria la magic powder di charlotte ilburi quindi polvere io ce l'ho in colorazione 2 fair medium ottima polvere libera setta perfettamente tutto quindi ottima passo alla terra questa è di dior ottima ho utilizzato questo pennello che vado a conservare con queste retine che ti straconsiglio questa è la dior forever in colorazione 3 soft bronze ottimo bronzer passo poi agli occhi quindi utilizzo la biba palette di natasha denona bellissima palette guarda che meraviglia e inizio subito con il primo colore vado a creare uno lo smoky quindi vado a prendere questo colore marroncino ti lascio scritto ovviamente il nome lo vedrai scritto qua quindi vado a posizionarmi nella parte interna in questo modo con un pennellino a lingua di gatto piccolo quindi angolo interno e angolo esterno quindi vado a strutturare il mio make up in questo modo posizionando prima il pigmento dopodiché vado a sfumare con l'r1 di stefania d'alessandro quindi riprendo un attimino il colore l'ombretto e vado a sfumare sui bordi verso l'interno e verso l'esterno come sempre questi sono i movimenti che faccio sempre prima con l'r1 poi passo all'r2 che è un po più fitto un po più cicciottello come dico io e mi aiuta ad ammorbidire le mie sfumature poi prendo un pennello come questo 217 di mac e prendo questo colore stupendo su base rossa e lo vado a posizionare sulla piega scuoto l'eccesso sono ombretti super pigmentati quindi questo il mio consiglio scuoti sempre un po l'eccesso per evitare fallout ma ti posso assicurare che questi ombretti sono una meraviglia è una garanzia quindi faccio questi movimenti avanti indietro circolari lo stesso anzi gli stessi colori li vado a riportare anche sotto quindi prima con l'r1 specchio in alto e posiziono prima il pigmento e poi vado a sfumare posiziono e sfumo prendo un pennello da sfumatura un po più da precisione e sfumo ulteriormente passo poi a questo color senape bellissimo e vado sopra il borgogna chiamiamolo così direi che proprio un colore di questo tipo e quindi vado diciamo sopra nella parte più alta della palpebra con il pennello solito di nyx a fare questa sfumatura ampia così in questo modo vado a fare lo stesso anche sotto quindi riporto i colori anche sotto passo poi a questo colore stupendo shine è un colore bello luminoso direi luce pura è ovviamente lo stendo con le dita bellissimo e subito da da luce e lo metto appunto nella parte che ho lasciato vuoto quindi la parte centrale poi ovviamente vado a sfumare anche gli altri colori quindi cerco di unirli passo poi alla matita questa è la numero 20 di chanel espresso se non sbaglio ottima matita che ti straconsiglio in realtà tutte le matite di chanel queste automatiche waterproof sono le mie preferite in assoluto e ho sfumato poi con con il pennello e voilà ho fatto off camera messo mascara primer e il mascara e dopodiché passo al blush utilizzo questo di stefania d'alessandro bellissimo questo è rust e subito questo effetto bello salute bellissimo un colore molto caldo e si sposa benissimo con il resto del makeup passo anche poi all'illuminante utilizzo questo di charlotte tilbury era un'edizione limitata al magic star bellissimo guarda che luce è su base oro ma è stupendo molto delicato utilizzo un pennello a ventaglio come questo di smashbox sono passata poi alle labbra e ho utilizzato la matita natural di stefania d'alessandro il rossetto veri victoria di charlotte tilbury e successivamente poi ho deciso di aggiungere un pizzico di gloss per completare il look ecco qua questo il trucco terminato spero ti piaccia fammi sapere qua giù nei commenti cosa ne pensi ti faccio vedere anche cosa ho deciso di indossare un bellissimo abito di mimimimua firenze preso da impulsi ti aspetto come al solito al prossimo video naturalmente seguimi anche su instagram se ti va e su facebook e ti aspetto al prossimo video un bacione